Il mio nuovo account con 8 miliardi mi farà fare più kill? Non ne sono troppo sicuro Ci sono alcune cose da sistemare ma le sistemeremo dopo Perché adesso abbiamo da combinare una bella kill a questi Se mi fa sparare Sì ma davvero con uno sparo stai sparando a un raiju? Ti darò una possibilità, cercherò di spararti solo con i missili manuali Perfetto, mi è andata bene Nel senso, permettetemi di spiegare Ho perso meno tempo del previsto Non è che dubitassi del fatto di prenderli eh Non credo tu ti renda conto di cosa hai appena fatto Vi ricordo se vi servono, bene un bel headshot Se vi servono soldi su GTA, link in descrizione Se vi serve un account simile a questo, ti puoi fermare Non potete averlo, perché questo chiaramente non è legit I busti denaro Persone comuni che fanno cose da per... E' fermo Dice, porca puttana questo Il culo che c'ha questo è indescrivibile Nell'essere scarso c'ha un culo pazzesco Ma non ti vergogni Mosse comuni da giocatori comuni Ma puoi restare fermo? Mi stavo sporando con la carabina Però ci sono alcune altre cose che devo sistemare Per esempio non ho la pistola lanciarazzi La penatomizer, alcune cose che potrebbero essere utili Non ho neanche i teleport in questo account Si tratta di alcune attività la cui sala d'attesa è impostata sui tetti O in generale in punti importanti da utilizzare nei fight Che mi possono servire per spostarmi velocemente Ma io sono fermo da una vita e mezza Questi ancora non sono riusciti a farmi nulla Quanto è bella la corsa moddata Ogni volta che non la uso per tanto tempo me ne scordo Ok, la cosa importante da fare è comprare tutte le armi Quelle che non ho perlomeno Quindi la pistola P La penatomizer anche Che non si compra più da qua Si compra dal cazzo di furgone delle armi Quella è utile per oltrepassare delle staccionate Del filo spinato E non potresti oltrepassare come all'aeroporto Se spawni fuori dall'aeroporto ti serve per rientrare E allora in realtà non c'è molto altro da prendere Quindi io devo solo entrare nei posti Mettere quello che mi serve E in certi casi nemmeno Solo MG da combattimento Qua il fucile avanzato si può togliere E non ci sono le granate a gas Però le ho nell'inventario Mi hanno pure sistemato i colpi credo Sulla carabina abbiamo i colpi perforanti Sul bullpap abbiamo le munizioni blindate Quanto mi conoscono quelli del mio staff Teleport di Lester non ce l'ho Anche quello è importante Qua non ci sarà nulla di pronto Vero infatti Ho passato l'ultimo quarto d'ora A portare questa ambulanza Dall'altra parte della mappa Fin qui Spero sia apprezzato Per non perdere tempo E siccome detesto le perdite di tempo Detesto anche le rotture di cazzo Come Lester che parla Modifichiamo il cangiale Fin che siamo qui Allora aveva sto coso I freni Pure i freni puoi modificare Metti la mina Il clacson non ci interessa Metti i fari allo xeno Allora sali qua Dai che ce la facciamo Forza Sì Non ci voglio credere Ce l'abbiamo fatta Fancula Fancula Rompi sto coso Perfetto Ok Siamo sullo yacht Col cangiali Però qualcosa lo riusciremo a combinare È un po' difficile muoversi da qui Ma in qualche modo Forse ci si riesce Il problema è come mi muovo da qui Non cadere in acqua Non cadere in a Cazzo di idiota Abbiamo capito che il metodo non funziona Farò del mio meglio per distruggere questi 3 yards Da solo con un cangiali Ti dicevo non è semplice Parte che perché c'è la roba in mezzo Prima cosa Seconda cosa perché chiaramente Loro si possono suicidare E io no Sennò che sto sul cangiali E infatti vedi che ti possono sparare con mille cose diverse Quindi devi muoverti il più possibile Ed è ciò che sto cercando di fare Dandogli la lezione che si meritano Ah te ne vai lì dietro Non puoi nasconderti Non puoi scappare Da La mia potenza Incredibile Prestigiosa Inimitabile La smetti di Sparare sulle cose Grazie A parte che loro pure possono essere molto cose L'obiettivo è terminare l'evento Facendoli morire in continuazione Eh sì Credici Avevate previsto tutto Fuorché uno col cangiali Che non era neanche così tanto rara come cosa Come possibilità Seppure è messo a spammare Perché ti so spammo Sì Ma se me ne spari uno addosso e tutti gli altri li manchi Vai in alto vai in alto È l'unico modo in cui puoi evitarmi Non hai il coraggio Tanto sei scarso Come l'acqua in Africa Come dicevo Ancora sono vivo Non mi sta succedendo assolutamente niente Io sono qui eh Credo se la sia presa con me E io giustamente Sono proprio qui per farmi chillare Uno dei teleporti di cui parlavo prima Se volete cercarli sul social club Cercate teleport spawn Teleport roof Li trovate tutti Infatti questo mi porterà esattamente Nel punto di spawn del Raizu Oh oh Guardalo là Ma non che ci fosse qualche dubbio Vista la sua discreetabilità Forse sarebbe il caso ti buttassi Quando sei in quelle condizioni Iscriviti